La tristissima storia di questa ragazza ha terrorizzato tutto il mondo. È una vicenda davvero ai limiti della realtà che sono sicuro vi farà venire i brividi. Si tratta del caso di Anne-Lise Michel, una donna che fin da piccola è sempre stata molto credente, ma che ad un certo punto si pensa sia stata vittima di possessione demoniaca. E uno di questi demoni che infestava il suo corpo era Lucifero in persona. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi ragazzi parleremo di qualcosa di davvero macabro e disturbante. All'epoca dei fatti questa vicenda ha diviso in due l'opinione pubblica e ha fatto discutere tantissimo, tanto che se ne parla ancora adesso, come sto facendo io. Quindi a prescindere dalla vostra fede fidatevi se vi dico che questo caso tocca argomenti che riguardano un po' tutti noi e anche tutte le cose in cui crediamo. Però prima di cominciare con questa storia terrificante voglio velocemente parlarvi di una cosa che ultimamente mi sta davvero terrorizzando. Allora, ho eseguito un rituale inquietante. Prima di giudicarmi dovete sapere che si tratta del rituale di Talk To Me, nuovo horror distribuito al cinema da Midnight Factory, che ha gentilmente sponsorizzato questo video. Quindi grazie Midnight Factory, peccato che mi sia davvero spaventato. Mi hanno mandato tutto il necessario per fare il rituale come nel film, ed ecco com'è andata. Come vedete le regole sono molto semplici. Per fare bene il rituale però bisogna essere in due perché una persona deve tenere bene sott'occhio la candela e il timer perché non bisogna mai superare i 90 secondi. Quindi ora prendo la mano e pronuncio le parole Parla con me e subito dopo ti lascia entrare. Sinceramente non me la sentivo di tenere la mano per più di 90 secondi. Come sapete sono molto fifone. E non me la sentivo perché nel film, che ho già avuto modo di vedere, succedono cose molto brutte. Talk to me parla di un gruppo di adolescenti che decide di fare una challenge che ultimamente sta spopolando nel web. La sfida in questione è un vero e proprio rituale, esattamente come quello che ho fatto io. I ragazzi nel film lo prendono come un gioco all'inizio e decidono di farlo filmandosi per poi pubblicare i risultati sui social. Ma durante il rituale, che apre le porte all'aldilà, qualcosa va storto. Come avevano già visto e sperimentato, la connessione con il mondo dei morti funziona. Ma adesso sembra che gli spiriti dei defunti non se ne vogliano più andare. Così il male comincia a diffondersi e a cambiare la vita di questi adolescenti per sempre. In particolare di una di loro. Il film ragazzi è davvero interessante e diverso dai classici horror a cui siamo abituati. Dimenticate i cliché. Talk to me vi prenderà per mano e vi porterà a conoscere il male più assoluto. Parla con me. Una crescente atmosfera di tensione vi accompagnerà per tutto il film. Quindi preparatevi e segnate sul calendario la data d'uscita. Il 28 settembre. Fatemi sapere se sarete abbastanza coraggiosi da andare a vederlo. A me è piaciuto un sacco per cui ve lo consiglio. In più sono straorgoglioso di questo film perché è stato fatto da due youtuber. Il che è davvero bellissimo. Si tratta dei ragazzi del canale Raka Raka che sono sicuro molti di voi conoscono. Avendo conquistato milioni di spettatori con i loro video action e horror. E il fatto che siano stati due youtuber a realizzarlo è davvero impressionante. Sul loro canale trovate i vari dietro le quinte e un po' la loro storia. Quindi se vi interessa andate a dare un'occhiata dopo aver visto questo video. Detto questo grazie dell'attenzione e cominciamo con i file di oggi. Dunque. Anne-Lise Elizabeth Mitchell nasce il 21 settembre 1952 a Labelfing. Ma vive con la sua famiglia nella piccola città di Klingenberg. In Germania. Perdonatemi per le pronunce chiaramente non so il tedesco. Comunque quel posto ha pochi abitanti e si conoscono un po' tutti. La comunità è fortemente religiosa e la famiglia in cui nasce Anne-Lise non è da meno. Fin da piccola viene abituata alla fede cristiana e a tutte le regole e le consuetudini annesse. Suo padre sembra essere molto severo ma non solo con lei anche con le altre figlie. E in generale per fortuna sappiamo molti dettagli su tutta quanta la famiglia. Per cui possiamo capire molto bene chi sono queste persone. Perché fidatevi è fondamentale capire il contesto in cui nasce e cresce la protagonista di questa storia. Tanto per cominciare il padre di Anne-Lise si chiama Joseph Mitchell. Proviene da una famiglia di ceto medio. Anch'essa è estremamente religiosa. Joseph avrebbe voluto diventare prete ma diciamo che non è mai riuscito a realizzare questo sogno. Per cui impara il mestiere di falegname nell'attività dei suoi genitori. Passa tre anni a lavorare lì e poi è obbligato a prendere tutta un'altra strada. Rimane sempre molto credente ma viene arruolato nelle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale. Durante il servizio viene fatto prigioniero ma nonostante tutto sopravvive e torna a casa nell'estate del 45. La guerra ormai come sapete è finita per cui Joseph deve trovarsi un nuovo lavoro. A modo di frequentare una scuola e supera gli esami per diventare un maestro artigiano. Finendo per prendere le redini dell'attività di famiglia. In tutto ciò rimane sempre molto fedele e credente. Direi anche troppo. Diventa incredibilmente fissato col cristianesimo. E le famose apparizioni di Fatima lo rendono sempre più convinto. Capisce che la strada del Signore è quella giusta e sa che quando avrà una famiglia educherà i figli secondo questa dottrina. E in modo decisamente severo. In quegli anni in realtà questa cosa non era molto rara. Moltissimi erano come lui e volevano vivere in una famiglia tradizionale. Guidata solo ed esclusivamente dalla religione. Ecco in breve questo è Joseph Michel. La madre di Anneliese invece, che si chiama Anna, ha un passato un po' diverso da suo marito. Anche lei lavora nell'attività della sua famiglia ed è proprio lì che incontra Joseph. Anche lei è una cristiana molto convinta e praticante per cui sotto questi punti di vista hanno molto in comune. In qualche modo comunque i due si incontrano, si piacciono e si sposano nel 1950. Ma Anna in quel momento ha già una figlia che viene considerata illegittima dalle persone del posto. Questa situazione che oggi può sembrare normalissima non piace per niente ai vicini di casa. Cioè se una coppia si sposa e uno di loro ha già un figlio nato da un altro matrimonio, per quella gente in quegli anni è come uno scandalo. E questo dice molto anche sull'ambiente in cui crescerà Anneliese. Comunque purtroppo il vicinato non si fa i fatti suoi e cominciano a girare voci secondo cui questa presunta bambina illegittima fosse figlia di un sacerdote e che il loro matrimonio fosse stato fatto solo per denaro. Ma al di là di questi pettegolezzi alla fine quella bambina purtroppo muore per via di un tumore ai reni. Muore nel 1956. Ma pensate che in quanto figlia illegittima non viene neanche sepolta nella tomba di famiglia, bensì vicino al muro del cimitero, in una tomba separata. Ecco penso abbiate capito che non ci troviamo proprio in un ambiente sano e accogliente. O meglio i genitori non sono cattivi di base, ma sono troppo severi e legati a ste regole religiose a dir poco opprimenti. Il contesto familiare quindi è molto particolare. Non se la passano male, ma la religione è fin troppo importante per loro. Sono una di quelle famiglie che oggi possiamo definire come patriarcale, in cui Joseph, il padre, decide tutto in casa e tutti devono obbedirgli. In realtà devo dirvi che sì, tutti lo fanno senza problemi, tutti stanno nelle sue dipendenze e ai suoi ordini. La stessa protagonista delle vicende, Anlise, è felice e tranquilla. Non fa storie e obbedisce anche se alcune costrizioni del padre le danno un po' fastidio. Per farvi qualche esempio, la giovane Anlise non può socializzare, non può uscire la sera e deve sempre pregare più volte al giorno. Su quest'ultimo punto Anlise non è poi così dispiaciuta, perché a lei la religione e la fede in Dio piace molto, davvero tantissimo. Le piace sinceramente pregare e credere in Dio, tanto che va in chiesa più volte a settimana di sua spontanea volontà. Ovviamente di questo suo padre non può che essere orgoglioso. Era esattamente il tipo di figlia che voleva. Anche i compagni di scuola hanno delle considerazioni positive su di lei. La considerano gentile, disponibile, anche se a volte un po' troppo timida e a tratti insicura. Cresce comunque buona, devota e obbediente. Anche con le sorelle va d'amore e d'accordo. Quindi in sostanza non sembra esserci assolutamente nulla che possa far pensare male di lei e della sua vita. Fede a parte, in famiglia si vogliono bene, diciamo. Ci sono tante regole, ok, ma a lei vanno bene, vanno bene a tutti. Allora com'è possibile che dall'adolescenza in poi tutto ha preso una piega terrificante? Che cosa ha ridotto Anlise così? Nel mese di settembre del 1968 per lei cominciano i veri problemi. Un giorno la ragazza perde improvvisamente i sensi mentre è a scuola. Poi verso sera, per un po', si sente completamente paralizzata. Nell'agosto del 69 si verifica un altro di questi episodi e a seguito di varie visite mediche le viene diagnosticato un disturbo epilettico cerebrale. Poco tempo dopo contrae anche la polmonite e la tubercolosi. E questa è solo una parte di tutti i problemi di salute che ha cominciato ad avere. C'è da dire che fin da piccola ha sempre sofferto molto. Purtroppo Annelise è una di quelle persone a cui anche un semplice raffreddore può causare davvero molti dolori. Da piccola aveva avuto il morbillo e la scarlattina ed era stata parecchio male. Ma adesso che è cresciuta, è come se tutta la sfortuna del mondo avesse scelto di colpire lei. Questo perché oltre a tutti questi problemi, ad un certo punto le viene anche un terribile mal di gola e le vengono estratte le tonsille. Col passare del tempo Annelise sta diventando sempre più delicata e il suo corpo sempre più compromesso. E c'è effettivamente qualcosa di strano perché, ok che è una ragazza debole, ma perché sta così male? Lei non se lo riesce a spiegare e questa cosa la turba moltissimo. Le sue condizioni ormai sono così gravi che deve rinunciare per un bel po' alla scuola ed è costretta a letto per ben sei mesi. Passa questo lungo periodo in un sanatorio e come potete immaginare per lei questa non sarà affatto una bella permanenza. Lei, anzi, comincia a soffrire di problemi cardiocircolatori, ma inizia anche a sentire delle voci e a vedere cose molto strane, davvero spaventose. Le appaiono volti demoniaci, ha allucinazioni uditive e si sente come spiata da qualcuno o qualcosa. C'è da dire che queste sue visioni non sono state realmente riportate da documenti medici, quindi c'è il sospetto che questa informazione non sia proprio esatta. Ma è sicuro che almeno in questo periodo, ovunque fosse, qualsiasi cosa avesse, ha cominciato a sentirsi osservata, controllata. Anche per via di questo viene sottoposta ad un nuovo elettroencefalogramma ed effettivamente risultano le problematiche già spiegate prima. I dottori quindi le prescrivono dei farmaci per bloccare o prevenire le convulsioni causate dall'epilessia, farmaci che però creano dipendenza. Tuttavia passa del tempo e dopo questi mesi ad il poco infernali in cui si è vista crollare la vita addosso, Anne-Lise riesce finalmente a riprendersi un po'. Al ritorno dal sanatorio viene trasferita in una nuova classe a causa del tempo perso con gli studi e di conseguenza si isola sempre di più e comincia anche a soffrire di depressione eppure i suoi voti cominciano a calare in maniera drastica. Tutti questi problemi fanno preoccupare moltissimo i suoi genitori, capiscono che devono preservare la sua salute, impedendole di esporla a troppi rischi. E così l'adolescenza di Anne-Lise viene plasmata secondo altre regole ancora più rigide di quelle di prima. Per farvi capire cosa intendo, era da un po' di tempo che la ragazza aveva un fidanzato ma sua madre le proibiva di frequentarlo. Questo ragazzo non aveva mai fatto niente di male, ma per i genitori di lei era troppo pericoloso. Non vogliono più esporla così tanto al mondo, le proibiscono anche di partecipare a eventi di ballo e di andare dalle sue amiche. Possiamo dire con certezza che in quel periodo in sostanza la rinchiudono in casa e se da un lato è comprensibile il loro ragionamento, dall'altro non stanno facendo altro che aggravare la situazione. Cioè, se è già depressa perché si sente fuori dal mondo, non ha molto senso rinchiuderla in casa rendendola di fatto fuori dal mondo. E forse anche a causa di questo che Anne-Lise comincia a sentire di più quelle voci, a sentire di più quei suoni e vedere quei volti raccapriccianti che la osservano. Il tempo intanto scorre e nella primavera del 73 la ragazza comincia a lamentarsi di un continuo bussare nel suo armadio. Poi questo rumore si sposta sotto il pavimento e ancora dopo su nel soffitto. Racconta che è come se ci fosse qualcuno che la sta perseguitando, che vuole prendersi gioco di lei. Mesi dopo dunque parla di questi fenomeni ad un medico specializzato. Spiega che quelle voci le parlano direttamente dall'inferno e il medico interpreta questi fenomeni come l'inizio di una psicosi paranoide. Nello stesso anno comunque nonostante tutti questi problemi riesce a superare l'esame di maturità, per cui in generale la sua vita accademica procede abbastanza bene, ma è alternata da questi continui disturbi di cui soffre e di queste voci che la tormentano ogni giorno, senza sosta. Riesce comunque ad iscriversi all'università pedagogica di Würzburg e si trasferisce nel dormitorio del Ferdinandeum, un seminario di studi cattolico. Ma la sua situazione purtroppo non migliora affatto e questo è abbastanza strano perché se vi ricordate le erano stati prescritti dei farmaci che in teoria la dovevano aiutare. C'è da dire però che non sappiamo se prendesse questi farmaci con regolarità. Alcune fonti fanno intendere di sì, mentre altre invece di no. Quello che è certo è che lei, arrivata a questo punto, non se la vive affatto bene. Si fa spesso visitare dal policlinico neurologico della sua stessa università, ma senza trovare soluzioni effettive. Intanto continua ad avere vari attacchi epilettici, che nel suo caso si presentano sotto forma di assenze, cioè un tipo di crisi epilettica non convulsiva che consiste in una breve perdita di coscienza. E tanto per raggiungere altri problemi, le viene anche diagnosticata una depressione nevrotica in progressione. Le vengono quindi fatti altri due encefalogrammi e proprio il secondo di questi fa emergere un danno cerebrale nella regione temporale sinistra, che molto probabilmente è anche l'origine delle sue crisi. Nonostante questo, pare che la ragazza non prendesse con regolarità i farmaci o che comunque la quantità prescritta non fosse sufficiente a trattare il suo male. Qualsiasi sia il caso, se tutto ciò fosse effettivamente vero, non c'è da stupirsi se Anneliese ha continuato a peggiorare. E anche le sue visioni demoniache hanno continuato a peggiorare. Ormai non può più stare in pace. Dal nulla comincia a sentire degli odori insopportabili, rumori dappertutto e voci che le impongono di non mangiare. Una volta dice di aver visto un demone con sette corna e sette corone. Oppure in un'altra occasione ha visto una statua della Madonna cambiare aspetto. Poi questa statua l'ha guardata e i suoi occhi sono diventati totalmente neri. La situazione, come avete capito adesso, è critica e i suoi genitori non sanno più che cosa fare. Si sono affidati a tutti i dottori possibili e a tutte le cure mediche disponibili. Per loro arrivati a questo punto c'è solo una risposta. Loro figlia è posseduta dal demonio. Decidono così di chiedere aiuto non più alla scienza ma alla fede, all'unica cosa davvero importante per loro. Purtroppo però non sanno che così facendo peggioreranno solo le cose. Ormai Anneliese è completamente ossessionata dalle sue visioni. Mangia davvero poco e la sua salute sia fisica che mentale ne risente parecchio. Viene fatta vedere da diverse persone di fede ma ancora nessuno le dice che è davvero posseduta. Piuttosto la convincono a prendere parte ad un pellegrinaggio presso San Damiano, un luogo di culto che però non è riconosciuto dalla chiesa cattolica. Quando vi prende parte dimostra un certo disgusto per diversi simboli religiosi. Non vuole toccare certe cose, vedere certe cose, come se davanti a questi oggetti avesse proprio una repulsione quasi viscerale. Questi atteggiamenti alimentano il sospetto di tutti sul fatto che fosse veramente posseduta. Tempo dopo viene portata da un altro uomo di fede, abbastanza importante, che però le dice di non essere affatto posseduta. Tuttavia il cappellano del posto in cui l'hanno portata organizza un incontro con un famoso e controverso sacerdote, ovvero Ernst Halt, parroco di Etzleben. All'inizio le dice di credere più alle diagnosi mediche che a questa storia della possessione, ma dopo un po' di tempo cambia idea e afferma di voler fare qualcosa in merito. A partire dell'autunno del 73 padre Ernst incontra Anne-Lise inizialmente ogni due settimane e successivamente una volta al mese, fino al novembre del 74. Nel corso di questi incontri il parroco definisce la sua situazione come infestazione, ovvero che la donna, ormai sulla ventina, è vittima di molestie tra virgolette da parte dei demoni. Cioè secondo lui lei non è ancora impossessata al 100%, ma i demoni che l'hanno presa di mira le girano attorno e le rendono la vita impossibile. Le consiglia allora di confessarsi spesso in chiesa e di condurre una vita religiosa più disciplinata. E che è davvero strano, se non assurdo dal momento che Anne-Lise è sempre stata molto devota. Com'è possibile che proprio lei, già vittima di tante malattie, debba essere vittima anche dei demoni. Non ha mai fatto del male a nessuno. Quindi perché secondo questo sacerdote dovrebbe confessarsi? È una situazione sempre più strana, ma ormai i suoi genitori rifiutano ogni spiegazione medica o scientifica. Per loro è chiaro che questi demoni sono reali e stanno distruggendo loro figlia. E più passa il tempo, più la donna sembra irrecuperabile. Queste creature, pensano, stanno entrando fin troppo nella sua vita. E ormai per loro è sicuro al cento per cento che sia posseduta. Così il primo luglio del 75 padre Ernst fa il primo esorcismo, al quale secondo i presenti Anne-Lise reagisce malissimo, come se non fosse neanche più lei. Strappa un rosario, parla in modo inquietante e grida in maniera disumana. È in questo periodo che si trasferisce nuovamente a casa dei genitori, dal momento che non può più portare avanti gli studi, sia a causa di questa presunta possessione che dai continui attacchi. Sono pochissime le persone che sanno della sua condizione perché lo stesso padre Ernst ha chiesto a tutti di mantenere il segreto. Sempre questo sacerdote, vista la situazione, ottiene il consenso di fare il rito dell'esorcismo minore, che sarebbe un tipo di rito non troppo invasivo ma comunque più efficace del precedente. Da questo momento in poi lo stato mentale di Anne-Lise collassa. Non dorme quasi mai, soffre di forte irrequietezza, urla e delira di continuo, digiuna, morde i suoi familiari, ogni tanto mangia insetti, animali che trova in giro e beve addirittura la sua stessa urina. Padre Ernst a questo punto chiede ai genitori di ricoverarla al più presto in un ospedale psichiatrico perché capisce che non è solo il demonio il problema qui, ma per loro questa cosa è inaccettabile. Loro credono di poterla salvare e pensano che se l'avessero portata in un istituto psichiatrico le avrebbero rovinato la carriera insomma. Perché sì, i genitori sperano ancora che possa laurearsi e diventare un insegnante di religione, che in un certo senso è comprensibile ma è evidente che non stava bene, un aiuto medico sarebbe stato davvero il minimo. Ma niente ragazzi, insistono affinché venga esorcizzata dai demoni. Ormai la povera Annelise non ragiona più, non è più autosufficiente ed è incapace di intendere di volere. Dopo qualche mese viene richiesto un esorcismo maggiore, il più forte e invasivo possibile. Come nuovo esorcista viene nominato padre Arnold Renz, il quale accetta l'incarico. Padre Arnold è famoso nel territorio e in questo caso spallegge il collega minore, Hearst, per aiutare questa ragazza. Gli esorcismi generalmente svolgono una funzione apotropaica, ovvero di protezione dagli spiriti maligni. Ma l'esorcismo maggiore prevede un particolare rito di allontanamento dei demoni, ed è questo il caso. Almeno secondo queste persone. Per tutto il tempo in cui padre Arnold lavora con Annelise, pratica in tutto ben 67 esorcismi maggiori, tutti documentati anche tramite un registratore audio che si portava appresso. Dalle registrazioni si può sentire Annelise parlare con voce strana, demoniaca, usa un linguaggio rozzo e scurrile, si dice che addirittura i demoni che vivevano nel suo corpo fossero sei. Se ve la sentite, io vi farei ascoltare ognuno di loro, perché ci sono le registrazioni di tutte e sei le possessioni. Se volete saltare questa parte perché è un po' forte, andate avanti di circa due minuti, non c'è nessun problema. Allora, tanto per cominciare, questa è la voce normale di Annelise. Questa invece è la sua voce nei momenti in cui si pensava fosse posseduta da Hitler. Sentite. Poi il secondo demone, Caino, uno dei figli di Adamo e Deva. Poi il terzo sarebbe Nerone, il quinto imperatore di Roma. Il quarto sarebbe un certo Valentin Fleishman, un parroco del 1500 che si dice fosse un assassino. Il quinto poi sarebbe Giuda, l'apostolo di Cristo. E l'ultimo si dice fosse il re di tutti i demoni, Lucifero, Satana. Queste registrazioni sono davvero spaventose. Il dolore che Annelise stava provando si sente tutto. Ma al di là di ciò, arrivati a questo punto, una domanda sorge spontanea. Perché secondo loro Annelise è posseduta? Per quale motivo proprio lei, che era una credente tanto quanto i genitori, è stata presa di mira da tutti questi demoni? Perché poi proprio Hitler o Nerone si sarebbero disturbati tanto da entrare nel corpo di una ragazza a caso? Cioè, non ha senso. Comunque, secondo una fonte, ci sono due motivi. Il primo è perché la sua è una possessione espiatoria. Praticamente, si dice che in questo tipo di possessione, i demoni o le anime prendano di mira un corpo per essere salvate dall'inferno. E questa, ragazzi, diventa una sorta di missione per Annelise, perché lei è talmente buona che vuole salvarli dall'inferno. La ragazza sosteneva che fosse stata la Vergine Maria in persona a darle questo compito, ovvero salvare sti demoni dalla dannazione offrendo il suo corpo. Quindi in questo senso, lei non vuole perdere questa entità, perché sente che sta facendo del bene a tenerle dentro di sé, perché così le può salvare. E lo accetta, lo fa, le tiene dentro di sé nonostante il dolore immenso che le provocano. E poi comunque ci sarebbe il secondo motivo per cui è stata presa di mira, ovvero una presunta maledizione che un'ex vicina di casa della madre di Annelise avrebbe lanciato su di lei prima ancora che nascesse. Ma tralasciamo i motivi adesso, perché tanto dopo ci concentreremo sulle varie spiegazioni scientifiche, religiose, eccetera. Quindi, durante la prima fase degli esorcismi, Annelise è riuscita comunque a continuare i suoi studi, seppur con molte difficoltà. Ma come avete potuto sentire e vedere, dopo pochissimo tempo non era proprio più in grado di fare nulla. Ormai a quel punto la sua intera vita era rovinata e non c'erano né medicine né interventi divini che potessero salvarla. Così, il mercoledì delle ceneri del 3 marzo 1976, inizia la quaresima e Annelise smette di mangiare del tutto. Le sue condizioni mentali e fisiche sono davvero raccapriccianti. Oltre ad essere terribilmente magra, comincia a torturarsi da sola, per esempio inginocchiandosi per ore o sbattendo la testa sul pavimento. Le sue migliori amiche alla fine scoprono come ridotte e cercano di starle vicino come possono, ma ormai è decisamente troppo tardi. Da maggio in poi, secondo padre Ernst e padre Arnold, la ragazza comincia a fare dalle 500 alle 600 genuflessioni al giorno. Poi comunque continua ad avere altre convulsioni, si morde da sola, si graffia e fa del male ai suoi cari. È una situazione davvero fuori controllo, per questo viene legata al letto, per praticamente tutto il suo tempo. Ma ovviamente questo la fa imbestialire ancora di più. Ad un certo punto crede anche di aver ricevuto le stigmate, ma la verità è che aveva i piedi doloranti a causa delle scarpe troppo strette e numerose ferite alle mani perché colpiva, graffiava, dava botte ovunque. Non erano stigmate. Improvvisamente però, per un momento tutto sembra risolversi. Durante uno degli ultimi esorcismi, i due sacerdoti sembrano essere riusciti a scacciare ognuno dei sei demoni. E la stessa Anlisi in quel momento lo conferma. Quindi sono tutti contentissimi, si preparano per cerebrare la vittoria, ma dopo 10-15 minuti circa le torna quella voce infernale e i demoni dentro di lei dicono che non se ne andranno mai, che sono bloccati nel suo corpo. Per sempre. E così si arriva al 30 giugno del 1976, il giorno in cui viene eseguito l'ultimo esorcismo su Anlis. Anche questo purtroppo non servirà a niente. Secondo quanto raccontato dai testimoni, durante il rito la ragazza veniva sbattuta da un muro all'altro da forze misteriose e invisibili. Continuava anche a distorcere la voce in modo davvero spaventoso e aveva una forza sovrumana, proprio come vediamo nei film. Solo il giorno dopo, purtroppo, Anlis perde la vita. E la causa della sua morte è la malnutrizione e la grave cachessia, ovvero una sindrome caratterizzata da perdita di peso, atrofia muscolare, stanchezza, debolezza e significativa perdita di appetito. L'autopsia eseguita il giorno della morte rivela che aveva ancora la polmonite, che non l'era mai passata e che non era neanche mai stata curata. Alla morte Anlis pesava appena 31 kg ed era alta 1,66 m. Ha lasciato questo mondo nel dolore più assoluto. L'intera storia sarebbe potuta finire così, in questo modo tragico e doloroso, ma una ragazza è morta in condizioni disumane, quindi per forza bisogna indagare e andare a processo. In questo modo è come se si scontrassero scienza e fede, con anche in mezzo un po' di legge. E ne viene fuori un bel casino. Innanzitutto viene avviata un'inchiesta per causa di morte incerta, e questo il giorno stesso della morte. L'inchiesta viene avviata proprio da padre Ernst, uno degli esorcisti. Per gli inquirenti c'è qualcosa di losco sotto, e così inizia una vera e propria indagine penale per omicidio colposo. I principali sospettati sono i genitori di Anlis e i due esorcisti, ma anche tutte le altre figure religiose che nel tempo sono entrate a contatto con la famiglia della vittima. Queste ultime persone però alla fine non vengono giudicate effettivamente responsabili. I due sacerdoti e i genitori invece, sì. E così il processo contro i quattro inizia il 30 marzo 1978. A questo punto il caso diventa famoso in tutto il mondo come il processo per l'esorcismo di Klingenberg. Tutta questa vicenda fa davvero scalpore e attira tantissima gente. Molte tv estere chiedono di trasmettere immagini, video e suoni, e ovviamente anche il Vaticano fa la sua parte, seguendo il processo da lontano. Vengono chiamati diversi esperti per analizzare i fatti. Uno di loro spiega in aula che Anlis soffriva di un disturbo epilettico e a causa del trattamento farmacologico la malattia si sarebbe, diciamo, evoluta in una psicosi paranoica. Questo viene confermato anche dai nastri degli esorcismi. Viene detto poi che il vero deterioramento dello stato di salute della donna è iniziato a partire dall'aprile del 76 e sarebbe dovuto all'autosuggestione come risultato di una perdita definitiva di controllo. Secondo l'esperto, le altre cause di questo malessere sarebbero da ricondurre ad una forma estrema di anoressia non diagnosticata che alla fine la portò alla morte per inedia. Sempre secondo l'esperto poi, la morte di Anlis avrebbe potuto essere evitata. Sarebbe bastato ricoverarla e sottoporla ad un trattamento farmacologico e psicoterapeutico adatto. Ecco, queste spiegazioni fanno riflettere molto, ma su richiesta degli avvocati difensori dei due sacerdoti, il giudice chiede di parere di altri due esperti. Questi, però, giungono sostanzialmente alle stesse conclusioni dei loro colleghi precedenti. Eppure, questi due esperti non sono d'accordo solo per quanto riguarda la diagnosi di danno cerebrale. Sospettano piuttosto di una schizofrenia grave non diagnosticata e non trattata. Vengono fatte anche delle perizie psichiatriche sugli imputati per vedere se davvero fossero loro la causa della morte di Anlis e viene confermato che tutti e quattro erano estremamente credenti e pensavano sul serio che con l'esorcismo avrebbero potuto salvarla. Eppure, diagnosticano a padre Arnold la sindrome di FAR, F-A-H-R, che gli ha causato gravi danni al cervello. Non so bene cosa sia. Per quanto riguarda padre Ernst, dicono che è psichicamente anormale. Io sto citando proprio le fonti. Psichicamente anormale può dire tutto e niente. Comunque è da qui che comincia il vero casino, perché ora che sono emerse tutte queste cose, i due preti cominciano ad accusare la famiglia della vittima e i genitori di Anlis non fanno altro che difendersi dalle accuse e dare la colpa ai preti. I genitori di Anlis dicono che avevano affidato il destino e la vita di loro figlia alla chiesa, ma i preti dicono invece che non era compito loro darle da mangiare e che quindi i genitori sono più colpevoli di loro. Quindi comincia sostanzialmente un casino, cominciano ad accusarsi a vicenda. Mi fa quasi ridere però non fa ridere in realtà. Così in questo modo un po' caotico passa del tempo e il 19 aprile del 78 l'accusa chiede formalmente che gli imputati vengano condannati di omicidio colposo per omissione. Ovviamente gli avvocati difensori dei quattro chiedono l'assoluzione totale, ma alla fine il giudice va ben oltre la richiesta dell'accusa. Quest'ultimo sta dalla parte della scienza e con una freddetta che passerà alla storia, il 21 aprile del 78 dichiara colpevoli di omicidio colposo sia i genitori di Anne-Lise che i sacerdoti. Da sei mesi di carcere ad ognuno e mentre pronuncia la sentenza dice anche queste parole. Anne-Lise Mitchell non era posseduta. Era malata di mente dal 1 maggio 1976. Dopo questa assurda vicenda il mondo si è letteralmente diviso in due. Molti credevano davvero all'innocenza dei genitori e dei sacerdoti perché credevano davvero che Anne-Lise fosse posseduta. Altrettanti però pensavano che la condanna fosse giusta perché effettivamente l'hanno fatta morire di fame e di stenti. Dovevano darle le cure adeguate e non lasciarle in balia degli eventi e degli esorcismi. Tutt'oggi si discute sulla loro colpevolezza e sul fatto che Anne-Lise fosse davvero posseduta. Infatti nel corso degli anni sono emerse tantissime possibili spiegazioni. La prima è quella medica e ne abbiamo già parlato quando vi ho raccontato del processo. Un'altra è quella psicologica. Vediamo se riesco a spiegarvela. Non penso però. Farò del mio meglio. Sulla questione del perché Anne-Lise abbia sviluppato in primo luogo la sua malattia, si pensa all'educazione cattolica molto rigida che ha vissuto, ma soprattutto al fatto che fosse basata su precetti morali eccessivi e sulla paura del male, quindi anche del diavolo. A differenza della maggior parte dei suoi coetanei, Anne-Lise non poteva ribellarsi semplicemente disobbedendo. Solo se fosse stata posseduta da un demone si sarebbe potuta permettere un po' di libertà. Un'altra spiegazione correlata potrebbe essere legata alla sfiducia che la donna stava provando nella scienza, dato che nessun sistema, a parte la fede di Dio, le stava dando un sollievo. Non poteva togliersi la vita perché era peccato. Non poteva ribellarsi alla sua famiglia perché era peccato, né poteva smettere di credere perché non avrebbe visto il paradiso. Di conseguenza l'unica possibilità rimasta sarebbe stata una morte lenta e dolorosa. E tutte quelle visioni non sarebbero altro che suggestioni della sua stessa mente colma di malattie, ma sarebbero state anche una sorta di strumento per giustificare la scelta che lei sia imposta da sola, sostanzialmente. La scelta di essere impossessata. Non so se mi sono spiegato. Comunque sempre secondo questa spiegazione, il fatto che abbia iniziato a ricevere degli esorcismi le hanno confermato di essere posseduta, quindi che non avesse malattie. E questo è successo perché neanche lei capiva fino in fondo cosa le stava accadendo. Quindi si è davvero autoconvinta fino alla fine, veramente autoconvinta al 100% di essere impossessata da questi demoni, tantissimi demoni. E in breve queste erano le teorie psicologiche, spero di essermi spiegato. Comunque come vi ho detto prima ce ne sono anche altre, come quella mistico-religiosa. Sentite. Secondo questa teoria, viene preso in considerazione lo stato di coscienza alterato, che può essere sia positivo che negativo. L'intensità di questo stato di coscienza alterato dipende da ciascun individuo e stando a questa spiegazione, se questo stato alterato è percepito positivamente, allora tende ad agire nell'area del cervello legata al piacere, altrimenti raggiunge l'area deputata al meccanismo di punizione. Si dice che in questo stato avviene la glossolalia, ovvero il parlare diverse lingue non conosciute, e anche con intonazioni e voci diverse. Secondo queste spiegazioni, tutte le religioni conoscono anche dei metodi per rimediare ad uno stato alterato o vissuto negativamente. E sarebbero gli esorcismi. Quindi lo scopo dell'esorcismo è questo. In ritirato in ballo ha anche l'effetto dei farmaci che comunque pare aver avuto un peso significativo. Fin dall'inizio infatti gli psicofarmaci avrebbero sedato il cervello di Anlis e quindi ostacolato la reazione cerebrale voluta dall'esorcismo causando il ritorno immediato dei demoni. La sua condizione andò peggiorando perché iniziarono a manifestarsi i sintomi di astinenza del farmaco che, stando a questa teoria, coincisero in modo impressionante con i sintomi di Anlis. Ma come sempre stiamo parlando di teorie. Anche la chiesa cattolica tuttavia ha preso una posizione sul caso. Questa spiega che il diavolo e i demoni esistono, e che la scienza non è stata in grado di negare l'operato di Satana e degli spiriti maligni. Quindi questi potrebbero effettivamente assumere forme e comportamenti pericolosi, tra cui la possessione. E secondo la chiesa è proprio ciò che è successo ad Anlis. Chissà se tra queste teorie e supposizioni si nasconde effettivamente la verità. In ogni caso questa vicenda ha fatto la storia e ha lasciato tantissime domande in sospeso. Anlis si poteva salvare. E se sì come? Con la fede? Con la medicina? Con entrambe magari? Oppure con nessuna? Ditemi voi cosa ne pensate perché sinceramente io non riesco a farmi un'idea chiarissima. Vi aspetto qui sotto. L'unica cosa che vorrei dire è che mi dispiace davvero tantissimo per questa povera ragazza che veramente secondo me poteva essere salvata in tantissimi modi. E in questo caso la religione non ha fatto altro che ostacolare il processo di guarigione. Magari non sarebbe guarita in realtà, però sicuramente avrebbe vissuto in maniera molto più dignitosa. Quindi sì mi dispiace veramente tanto specialmente vedendo come era prima e sentendo la sua voce prima. Comunque ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di un caso, un altro, che mi chiedete da sempre. Si tratta di una storia molto conosciuta ragazzi ma a quanto pare, a quanto ho capito, volete sentirla anche da me. Quindi molto presto ne parlerò anche io. Spero quindi che rimarrete nei paraggi. Per cui se vi ho incuriositi vi ricordo di massacrare i pulsanti iscriviti. E adesso parlo con te. Sì proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!